Il complesso delle quattro fontane sarà lo storico marchio romano Fendi a finanziare il restauro della fontana di Trevi e del complesso delle quattro fontane in qualità di mecenate unico. Grazie all'intervento della Maison Fendi c'è un contributo, un dono di 2 milioni e 500 mila euro che permetteranno di restaurare integralmente la fontana di Trevi e anche il complesso delle quattro fontane. È un segno importante perché continua ad aprire la strada su un mecenatismo culturale che dopo il Colosseo permette di trovare risorse anche per restaurare la fontana di Trevi. Continuiamo su questa strada. L'accordo è frutto di un percorso iniziato a luglio 2012 e che ha visto lo storico marchio romano legato profondamente alla città eterna. Il presidente e amministratore delegato della Maison è Pietro Beccari. Siamo molto contenti di questo, come ha sentito è un purato di donazione, non si tratta di nessuna opera di sponsorship e quindi questo ci fa particolarmente piacere perché ci legheremo alla città di Roma in maniera ancora più netta, agli occhi del mondo ed era uno degli obiettivi di questo progetto. I lavori che avverranno a spicchi per consentire ai turisti la visione del monumento partiranno a fine anno e dureranno 20 mesi per concludersi presumibilmente entro il 2015. Per il restauro delle quattro fontane invece l'affidamento del lavoro è previsto per il 2013. È una cosa molto importante, è una cosa legata praticamente a questo rapporto pubblico-privato che va assolutamente praticato. Bisogna lavorare in questa direzione perché dove non arriva la struttura pubblica può arrivare il privato. La novità è che le strutture amministrative della soprintendenza, assieme alle strutture progettuali della soprintendenza, hanno fatto in modo che in pochissimi mesi si sia arrivati in gara perché praticamente il restauro è in gara sul progetto fatto dalla soprintendenza. Quello della Fontana di Trevi è solo il primo di una serie di interventi conservativi che Fendi vuole patrocinare con Fendi for Fonten. Progetto mirato al risanamento e alla tutela di altre fontane storiche presenti sul territorio cittadino. Grazie. Grazie.